Il bene individuale e delle famiglie. Non mi sento di fare auguri perché le frasi che ha detto Ciro o che tutti si aspettano, ce le aspettiamo tutte, fa parte del nostro lavoro. Cioè dire speriamo che il 2014 sia meglio, per noi è il lavoro, è normale che metteremo tutto l'impegno affinché questo si possa verificare. Però sta diventando secondo me quasi un ritornello che forse ci porta anche un po' di sfortuna. Stiamo sempre a spiegare, a dire, io dico sempre che chi vince gioisce e chi perde spiega, quindi a me non mi va di spiegare perché quando uno spiega vuol dire che sei perdente e noi non lo siamo stati per questi due anni quindi vorrei continuare a non esserlo. Quindi i miei auguri vanno solamente a voi tutti, alle vostre famiglie, affinché comunque tutto quello che possiate sperare e desiderare si possa realizzare. So che comunque sono auguri che poi lasciano il tempo e il trono perché comunque uno nella vita di tutti i giorni deve essere positivo, nel senso che uno può augurare positiva agli altri se poi nel comportamento sei positivo allora questa energia che tu mandi può effettivamente attecchire. Ma se uno poi nella vita di tutti i giorni si comporta male, produce negatività secondo me poco si può aspettare. Quindi come dico spesso il Natale viene una volta l'anno però dovremmo forse pensare che dovremmo comportarci come sentiamo a Natale 365 giorni l'anno non solamente quando ci sono le feste o quando uno si deve sentire più buono perché quello non serve a niente. Cerchiamo di dare tutti l'esempio affinché anche le cose in generale possano andare meglio perché comunque mi sembra che noi siamo uniti da una passione e quella della Salernitana. Però oltre a questo c'è un paese, c'è una vita sociale, una vita quotidiana che va avanti e non mi sembra che stia andando nella situazione migliore. Quindi cerchiamo l'augurio che faccio è quello che ognuno di noi risvegli le proprie coscienze e pensi un po' meno rispetto a quello che ti fanno pensare gli altri ma si pensi più con la propria testa perché c'è bisogno comunque di cambiamento. Il cambiamento può portare cose nuove, quindi positività, energia positiva e di questa energia noi abbiamo bisogno anche per fare il nostro lavoro. Quello che posso dire anche se è scusante, può sembrare a volte da voi che venite da avere la partita che non ci sia impegno, non è vero questo. Ci sono delle condizioni che si creano in casa e magari la squadra è come se fosse un po' impaurita, ma vi posso assicurare che l'impegno c'è quotidiano negli allenamenti e anche prima di entrare in campo. Quindi su questo voi dovete stare tranquilli. È normale che siamo forse abituati bene perché in due anni di vittorie non è che si può sempre vincere nella vita, ragazzi. Cioè nella vita vince uno e gli altri partecipano e cercano. Noi dobbiamo cercare di fare quello che è delle nostre possibilità. Quindi promettere che il 2014 sì, noi però non possiamo assicurare che poi ci possa essere risultato. Noi sicuramente questo ci potete contare, noi ci impegneremo al massimo, a dare il 100% di quello che è le nostre possibilità. Poi non è detto che dobbiamo essere anche quest'anno i migliori. Speriamo di riuscirci perché noi faremo, ripeto di tutto, però stateci vicino, sia nella... come si è, quando uno si sposa, no? La buona e la cattiva. La buona e la cattiva. Quindi questa è la cosa importante perché da parte nostra c'è buona fede e soprattutto attaccamento alla madre. Ci sono tanti ragazzi che fanno sacrifici, la vita del calciatore, la professione del calciatore è una professione dura. Uno vede solamente la domenica, quello che è il bello, gli applausi che ci stanno, ma non è così. È una vita anche di sacrifici per chi la vuol fare seriamente. Poi magari c'è chi non la fa seriamente che magari dura poco, ma chi la fa seriamente vi assicuro che è una vita stressante. Quindi non pensate che questi ragazzi non si impegnano. Loro vanno in campo, solo che a volte il risultato non è come le aspettative, come un tifoso vorrebbe. È normale che anche noi siamo i primi a essere... però stateci vicini perché comunque bisogna non disperdere energie, non cercare colpevoli, non accusare col dito, dire colpa di questo e colpa di quell'altro. Cerchiamo di raggruppare forze, fare fronte comune e cercare ogni domenica di battere l'avversario che ci viene di fronte. Se riusciremo a fare questo, poi forse alla fine avremo raggiunto un sogno che magari adesso può essere solamente un utopia. In bocca al lupo e auguro.